Ciao e bentornati, oggi sono qui con la mia amica Claudia e vi dimostrerò come realizzare questo trucco ispirato al colore dell'anno Marsala, che ho deciso di abbinare ad un bel blu notte, in quanto l'arancione e il blu sono colori complementari e quindi si esaltano a vicenda e in più faranno risaltare ancora di più gli occhi di Claudia. Iniziamo con un correttore verde per coprire questo leggero strato di coperose e lo applico principalmente sulle guance e un po' sul mento. Adesso come fondotinta vado ad applicare quello della Number 7 Instant Radiance nel colore Warm Beige, che è un bellissimo fondotinta che va ad illuminare la pelle e a donare luminosità lasciandola comunque molto naturale. Lo stendo con un pennello numero 130 della MAC Duo Fibre. Il fondotinta è stato comprato quando vivevo a Londra da Boots, che è una catena di profumerie simile a Sephora. Vado adesso a piegare le ciglia con un piegaciglia della Shue Mura e come primer per gli occhi utilizzo il Paint Pot della MAC nel colore Soft Oka, che ci permette di eliminare tutte le discromie della palpebra. Andiamo ad applicare l'ombretto e applico questo della MAC nel colore Coppering, che è appunto un color rame perlato e uguale al color Massala, che è poi il trucco che andremo a ricreare. Lo vado a tamponare sulla palpebra mobile e per raggiungere l'attaccatura delle ciglia rigiro il pennello. Vado anche sull'altro occhio a ripetere la stessa operazione e adesso iniziamo a costruire la piega dell'occhio. Vado ad applicare sempre un ombretto della MAC, stavolta opaco, che è il colore Pure Orange. Lo applico con un pennello da sfumatura, questo è il 217 della MAC, appunto nella piega dell'occhio sfumandolo verso l'interno. Dopo averlo applicato, utilizzo un pennello pulito, sempre da sfumatura, soffice, per alleggerire il tutto. Per definire maggiormente la piega, applico un marrone caldo e questo è lo Swiss Chocolate, sempre della MAC, che è un bel marrone caldo opaco. Lo applico soprattutto nella parte esterna dell'occhio e adesso vado ad applicare Sketch, che è un bellissimo color melenzana che utilizzo spessissimo in tutti i tipi di trucchi ed è un colore stupendo per realizzare delle ottime sfumature. Quindi lo applico nella parte esterna e lo vado a sfumare con il pennello che abbiamo utilizzato in precedenza, la sfumatura. Adesso come illuminante sotto la palpebra vado ad utilizzare il color vanilla, sempre della MAC e sfumiamo il tutto con un pennello da sfumatura. Adesso utilizzo dei pigmenti sempre nel color rame, questi sono della Ben Nye e il colore l'Indian Copper e li vado a prestare al centro della palpebra mobile per rendere il colore più intenso. Come matita occhi utilizziamo questa della MAC, che è una Pearl Glide nel colore petrol blu, che è un bellissimo blu scintillante con delle pagliuzze di brillantini all'interno. Io adoro tutte le matite della Pearl Glide, ve l'ho detto in più video. Le ho di tutti i colori, sono morbidissime da applicare e possono essere utilizzate anche come ombretto. Una cosa a cui dovete fare attenzione è non applicarle all'interno della palpebra perché andranno a graffiare l'occhio. Infatti nella rima interna dell'occhio sto applicando una matita Plunotte della Gauche. Dopo aver bordato gli occhi, sia il di sopra che il di sotto con la matita, vado a sfumare il tutto con un pennello a punta. Adesso con il pennello utilizzato per il fondotinta vado a ripulire un po' la base a rinfrescarla e andiamo a correggere le occhiaie con un correttore. Io sto usando uno della Cryolan Dermablend e andremo a fissare la base con una cipria trasparente. Io ho preferito fissare la base alla fine del trucco, appunto per ritoccarla e per eliminare le eventuali cadute dell'ombretto. Passiamo alle sopracciglia che ho pettinato e vado a riempire con questo ombretto della MAC nel colore Run, che è un colore appunto marrone scuro opaco, per dare maggior definizione. Sto applicando il prodotto con un pennello angolato. Applico uno strato di mascara sulle ciglia superiori e inferiori. Questo è l'Extreme Dimension della MAC, che è uno dei miei mascara preferiti da quando è uscito. Dà un effetto bellissimo e grazie all'applicatore di gomma riesce a prendere davvero tutte le ciglia e a tirarle all'infuori dandoci questa bellissima curvatura. Come ciglia finte applico le numero 48 della MAC, che sono delle bellissime ciglia finte molto molto vendute a negozio, forse le più vendute appunto. Le applico con della colla duo glue. Vado ora a fare un po' di contouring con un marrone opaco dalla palette della Sleek Makeup e lo applico sulla parte alta delle guance seguendo una linea che va dalla parte superiore delle orecchie fino all'angolo esterno delle labbra per allungare il viso e sfumo bene il tutto. Vado ad applicare il prodotto anche ai lati della fronte e un po' ai lati del naso. Come blush applico questo della palette Sleek Makeup, che è un bellissimo rosa tendente all'arancio, molto intenso. Lo applico sulla parte centrale della guancia, sfumandolo verso l'alto, dando appunto un effetto lifting al viso. Come illuminante applico questo della MAC, che è un mineralized skin finish nel colore cheeky bronze, che è un bellissimo illuminante se volete sembrare più abbronzate ed è ottimo come terra abbronzante in estate per illuminare appunto tutto il colorito, tutto il viso. Lo applico anche al centro del naso sull'arco di cupido. E passiamo alle labbra, vado ad utilizzare questa matita della MAC nel colore cheekory. e vado appunto a colorare tutte le labbra con questa matita, perché ho un bellissimo colore e come finish è un finish opaco. Questa era Claudia prima, quando abbiamo iniziato il trucco, e questo è il trucco finito, molto intenso, bellissimo per un evento o per una serata tra amiche per andare in discoteca. Io spero che il trucco vi sia piaciuto, grazie per aver guardato e se appunto vi siete divertiti a guardare il video, vi chiedo di darmi dei pollicelli in su per apprezzarlo, condividetelo sui posti social media e se non lo siete già iscrivetevi al canale. Grazie e un bacio.